ci siamo chi è che non c'è simoni che succede ah non sta prendendo il verde ma c'è dentro qua ecco adesso è sbloccata riprovi onorevole albanella allora l'onorevole albanella deve deve riattivare la postazione intanto così arriva anche il presidente d'inca è stata provvidenziale la allora ciraci albanella fatto ciraci busto in arrivo allora quando ha votato l'onorevole busto chiudiamo è chiusa la votazione la camera approva allora ha chiesto di intervenire a fine seduta il deputato baldelli prego onorevole andate uscite ma con calma e anche soprattutto in silenzio prego onorevole baldelli presidente siamo in democrazia e in democrazia ogni opinione è legittima è legittima anche la possibilità da parte di ciascun partito forza politica o esponente politico di attribuirsi dei meriti il presidente del consiglio ad esempio ha una grande tendenza ad attribuirsi meriti come ha fatto ieri ad esempio attraverso una cerimonia in cui si attribuiva il merito dell'approvazione delle nuove norme sull'omicidio stradale del disegno di legge che rega la prima firma dell'onorevole scilipoti e questo ci sta presidente noi siamo in democrazia quello che se